Salve a tutti, oggi presentiamo due prodotti fortemente innovativi, essendo questo un settore estremamente difficile, perché già la risorsa vento è estremamente difficile da gestire, calcolare, quantificare eccetera, proprio per EcoFuture abbiamo portato due prodotti, di cui uno è un prodotto italiano che presenteremo oggi pomeriggio, lo presenterà direttamente il costruttore, una turbina verticale che è anche visibile qui fuori nel parcheggio e un'altra sopra, ferma, visibile anche per capire che è una turbina che funziona perché gira anche senza vento a livello stradale, quindi già questo è una cosa molto particolare per una turbina verticale. Questa invece è una nuovissima turbina irlandese, che ormai ha passato l'anno e mezzo di test, è certificata, certificata nella produzione, nella producibilità, cosa che è obbligatoria in tutti i paesi diciamo civili, quindi intendo Irlanda, Inghilterra, America eccetera eccetera, da noi non è obbligatoria, però la certificazione è l'unica garanzia che poi ha il consumatore di avere un prodotto che realmente fa quello che dichiara. È un problema fortemente sentito perché purtroppo in Italia esistono tantissimi prodotti che dichiarano potenze anche dieci volte superiori alla realtà che poi sono in grado di produrre e di fatto hanno rovinato il mercato anche in questo settore. Questo è un settore che tra parentesi non ha avuto la flessione in questi ultimi anni proprio perché con il blocco degli incentivi nel fotovoltaico molti installatori, molte aziende si sono riversate nel mineolico. Il mineolico ad oggi è un settore dove si può avere ancora un incentivo finanziario, quindi la vendita pura di energia è incentivata per 20 anni, le macchine piccole fino a 20 kilowatt prendono 0,291 euro per kilowatt immesso in rete, quindi un contributo importante e in più comunque possono essere usate in alternativo per lo scambio sul posto, quindi hanno una doppia valenza, in quel caso possono pure essere detratte fiscalmente per i privati per cui c'è anche un rientro forse più rapido, dipende sempre da quello che è le esigenze del cliente finale. La macchina in particolare che vogliamo presentare è un prodotto estremamente innovativo in un settore in cui innovare non è facile. Ovviamente nell'eolico la cosa fondamentale è la dimensione. È inutile credere a che sia possibile produrre grandi potenze con piccole dimensioni. Non esiste un sistema per estrarre più energia di quella che il vento può dare secondo delle formule ben specifiche. Questa macchina è una macchina che è estremamente grande come dimensione e in più ha delle innovazioni particolari tipiche di questa azienda. Questa è un'azienda che si occupa di fluido dinamica, che è entrata nel settore studiando una serie di turbine con sistemi per aumentare il flusso, quindi o turbine intubate, cosiddette intubate, oppure come in questo caso una turbina intubata ma è al contrario. Ve la spiego rapidamente perché è un prodotto che oggi con una potenza dichiarata di soli 5 kilowatt ha fatto nel primo anno sotto certificazione 19.800 kilowattora di produzione su un sito a 5 metri al secondo d'altezza. E questo può sembrare per chi non è esperto del settore dei numeri senza senso ma in realtà è una produzione paragonabile a 4 volte quella delle migliori turbine certificate sul mercato di pari potenza, quindi non proprio un valore semplice da capire. La caratteristica funzionale della test, la particolarità è che è un bipala, un bipala è una macchina normalmente molto efficiente ma con problematiche di partenza. Le problematiche di partenza sono state risolte con un piccolo rotore interno multipala che fa da avvio alla macchina e quindi gli permette di produrre già con venti bassi che è la prima caratteristica innovativa. La seconda caratteristica che è invece a regime di velocità nominale, la parte centrale si trasforma in una sorta di cono rigido, viene interpretato dal vento come una sorta di barriera e quindi diventa un concentratore per le pale esterne e quindi aumenta a sua volta anche la potenza nelle fasi più alte, cioè quando i venti sono più forti. Possiamo andare avanti, ecco questo è un paragone di turbine certificate di pari potenza, la prima è la Kingspan, la seconda è una Berge americana, la terza è una Evans inglese, sono tutte turbine che a 5 metri al secondo di velocità media al mozzo, che è una velocità non bassa in assoluto a 10 metri d'altezza, però caratteristica di siti sicuramente buoni, ma non siti estremamente spinti, quindi caratteristiche di vento che si possono trovare in Italia, in alcune regioni del sud Italia, sulle isole eccetera. Ecco, la media certificata delle varie turbine, quindi non numeri dichiarati ma numeri reali, sono queste, circa tra i 9.000 e 9.800 kWh all'anno di produzione, turbine da 6 metri di diametro mediamente, quindi turbine già grandi per questa fascia. La TESS è arrivata in questa prima fase di studio a quasi 19.800 kWh, la TESS ha però un diametro di 8 metri, questi 2 metri in più rappresentano un'enorme superficie in più da sfruttare, ma anche le caratteristiche intrinseche della turbina e lo studio hanno permesso questo tipo di risultati. Queste sono delle caratteristiche salienti di questo prodotto, va bene, è una parte tradotta anche da altri mercati, in particolare il mercato inglese. Il payback è ridotto perché per quanto la turbina sia costosa, è comunque costosa quanto i suoi competitors diretti, quindi ha un rientro sia con la feed in tariff, cioè la tariffa incentivante, sia con lo scambio sul posto estremamente rapido. È possibile utilizzarla, essendo una macchina a magneti permanenti, quindi che lavora poi completamente anche scollegata dalla rete, è possibile utilizzarla anche in applicazioni off-grid, quindi permette applicazioni off-grid di varia natura, che poi potremo vedere più avanti. È efficace sui siti a bassa ventosità, è una macchina che è già 4 metri al secondo di media, che è un sito normalmente non utilizzabile per l'eolico, è già una macchina in grado di fare una produzione molto interessante. Ha un incremento di produzione del 100% sulla base dei prodotti similari, cioè produce più del doppio in realtà di macchine similari. Non ha il pitch attivo, che è un vantaggio su molte macchine, ma è anche uno svantaggio perché ha bisogno di parecchia manutenzione, è soggetto a guasti, eccetera. Ha lo io attivo, cioè insegue ovviamente il vento in maniera motorizzata con un doppio anemometro e banderuola di sicurezza, come le grandi turbine, cioè ha come le grandi turbine sdoppiata tutta la parte di controllo elettronica e di sicurezza, compreso i freni di sicurezza. È una macchina silenziosa, essendo abbastanza leggera e con un palo entro i 10 metri, è anche facilitata nell'installazione in molte aree d'Italia. E in ultimo, vabbè, è un generatore a magneti permanenti diretto, quindi senza cambio, senza manutenzione, di fatto è senza manutenzione, a parte l'ingranaggio dell'inseguimento del vento. In ultimo, questi sono gli optional che l'azienda dà, cioè il kit per andare totalmente in off-grid, che viene anche abbinato a del fotovoltaico, e il monitoraggio remoto proattivo, che è una tecnologia che l'azienda ha sviluppato non solo per questo prodotto, ma anche per altri prodotti similari. Un sistema di autocontrollo a distanza che anticipa eventuali guasti e non ti fa intervenire quando ormai la macchina è ferma. Una sorta di monitoraggio molto più sofisticato, prevede la manutenzione, i tagliandi, eccetera, e controlla tutti i parametri tipici delle macchine prima che accada qualche problema, cosa che, a parte le grandi turbine, nessuno ha oggi sul mercato. Questo è lo schema all'interno della macchina, dove si vede come è costruita. In realtà è una macchina piuttosto semplice, l'innovazione sta fondamentalmente nella parte aerodinamica, si vede il rotore a sei pale, il rotore principale da 8 metri, il freno meccanico di sicurezza, altra caratteristica che su queste macchine non sempre è presente e che si traduce poi in macchine disintegrate con pezzi di pale anche a distanza di 100 metri, che non è soltanto una questione di valore ma anche una questione di sicurezza intorno. Sono tutte cose obbligatorie negli altri mercati, ma che non lo sono sul mercato italiano. Il sistema di inseguimento del vento con il motore e il doppio anemometro a banderuola per il controllo della velocità e del vento e l'orientamento. In ultimo il palo su cui è montato, che è anche questo sempre costruito da Air Synergy, è un palo idraulico per cui per la manutenzione è molto semplice, si tira su e giù in pochi minuti e facilita la manutenzione senza bisogno di cestelli e costi diciamo che su macchine del genere è meglio evitare, è meglio poter fare una manutenzione praticamente a costo zero tirando giù con il palo e fare la manutenzione a terra che non dover ogni volta affittare un cestello, una gru o un sistema di elevazione. Qui c'è la spiegazione che avevo già anticipato di come tecnicamente funziona. Il piccolo rotore tramite una frizione è agganciato al rotore principale, fa partire la macchina, comincia a produrre energie, lancia il bipala che è realmente la parte del rotore che produce la potenza, nel momento in cui va a regime questa parte interna che è stata studiata aerodinamicamente per espandere il vento ai lati aumenta il flusso e la velocità del vento sull'esterno, esclusivamente sulle pale bipala e fa sì che questa macchina possa generare più energia con poco vento e più energia con alto vento rispetto a tutte le altre. Poi ovviamente una macchina da 8 metri fa la differenza, 8 metri normalmente sono dimensioni per una macchina da 10 kilowatt sul mercato. Bloccarla a 5 kilowatt è una scelta progettuale ed è una scelta amministrativa. Molti mercati premiano la macchina da 5 kilowatt, il nostro premia le macchine per esempio fino a 20 kilowatt perché dà incentivi più alti. Poter avere quattro macchine di queste su un sito da 20 kilowatt vuol dire prendere un incentivo di una macchina da 20 kilowatt ma di fatto portare a casa i kilowattora di una 40 kilowatt, quindi il doppio di guadagno. Questo succede perché il nostro mercato è stato regolamentato in questa maniera, non è stata data un incentivo sulla dimensione delle pale che sarebbe una logica per chi fa questo lavoro, ma è stato dato su una potenza nominale. Questa macchina la potenza nominale la fa a 6 metri, 6 metri e mezzo al secondo, macchine concorrenti la fanno a 12 metri al secondo, quindi ovviamente parliamo di macchine totalmente diverse. Se questa macchina fosse libera di girare a 12 metri al secondo non farebbe 5 kilowatt ma ne farebbe probabilmente 20, questo è il limite. Quindi è chiaro, è un grosso salto di qualità e un grosso salto anche per chi lo fa come investimento perché permette con un investimento sicuramente importante di portare a casa però un forte guadagno, un tempo di rientro molto più basso ovviamente. Questa è la curva di potenza indicativa, appunto qui non si vede molto chiaro la schermata però la potenza nominale che poi si stabilizza parte da circa 6 metri e mezzo al secondo quando gli altri stanno laggiù a 12 metri al secondo come curva, quindi un abisso. Queste sono le caratteristiche tecniche, la velocità di catin, cioè la partenza a 2 metri al secondo è un'altra caratteristica assolutamente incredibile su una macchina di questa taglia. Nessuna macchina oggi in commercio riesce a partire a questa velocità del vento, questo è grazie al brevetto del rotore multipala frontale. La potenza nominale a 6 metri e mezzo, la capacità di resistere a raffiche di 52 metri e mezzo al secondo che anche queste speriamo di non vederle mai perché se ci sono in genere la casa accanto ha perso già le tegole eccetera. I giri nominari che sono intorno ai 140 quindi non elevatissimi e la produzione anche a 4 metri al secondo è estremamente alta, cioè a 4 metri al secondo dalla stima fatta ovviamente col sito adesso il sito è a 5 ma insomma la stima ci dice che stiamo intorno ai 13.500 kWh quindi già quasi il doppio, anzi il doppio della concorrenza quasi. Quindi è estremamente performante in siti che oggi non sono utilizzabili per l'eolico. C'è drasticamente la soglia di chi vuole un trago. Esattamente, infatti c'è uno schema per esempio dell'Africa dove ci sono zone che attualmente non utilizzano turbine ma parliamo di piccole turbine quindi proprio per le necessità primarie, di fatto questa macchina apre il mercato delle piccole turbine al 70-80% dell'Africa che attualmente non ne potrebbe utilizzare perché le macchine attuali non sarebbero in grado di produrre sufficiente energia per essere ripagate. Quindi è una macchina che apre mercati nuovi e quindi anche per questo è innovativa. Sì, qui abbiamo le altre tecnologie, insomma le dimensioni, la materiale con cui è costruito, il sistema di connessione rete eccetera. Questo è una panoramica di tutti gli utilizzi dalle stazioni di ricarica auto, nel caso di sistemi anche off grid, la possibilità di fare impianti di ricarica, di pompaggio acqua, oppure la classica connessione rete eccetera. Questo è un ulteriore schema che fa vedere quanto spazio occupa una turbina producendo quel tipo di potenza paragonato al solare in varie zone del mondo. Come si vede con 8 metri quadri la produzione è paragonabile a 133 metri quadri che è molto simile al nostro di fotovoltaico o in altre zone con meno sole, Irlanda in quel caso, oltre 234 metri quadri. Quindi anche un'ottimizzazione degli spazi a parità di produzione in kilowattora. È una media ponderata della zona, si mette un anemometro, si vede la media di vento della zona, i 5 metri al secondo sono una media, non sono un picco, una zona buona dove si mette oggi l'eolico sono dai 5-5 metri e mezzo in su, di media annuale. Le grandi turbine che stanno a 70-80 metri beneficiano di venti molto diversi. A terra avere a 10 metri, 5 metri al secondo sono siti interessanti, averceli insomma, però ce ne sono. Questa è una panoramica rapida di altri prodotti che l'azienda ha, che sono tutti prodotti innovativi sotto questo punto. Questi sono i primi studi delle macchine intubate che hanno fatto, l'RPU è un prodotto già venduto in tutto il mondo, è un palo eolico fotovoltaico di illuminazione con una turbina intubata, anche questa ad alte prestazioni, con anche questa un sistema totalmente integrato all'interno del palo, proattivo, cioè fa la gestione a distanza dei pali, viene venduta per i comuni ma è venduta nel Sud America, in Africa, in tantissimi posti, totalmente autonomo, con una gestione unica centralizzata, per cui questi sono pali che non rimangono al buio come la metà di quelli che vediamo di questo genere, perché ti chiamano e ti avvisano molto prima che succeda. a qui, non so se può andare, c'è un piccolissimo video di pochi secondi, guarda un po' se lo puoi far partire, così si può vedere anche una macchina in funzione, era quello slide lì prima del saluto. Così vediamo una macchina installata, tanto per vedere 10 secondi di rotazione che può essere insimpatica, io l'avevo inserito e ho visto che... Abbiamo un cartellone qui, no qui abbiamo portato la macchina verticale che presenteremo oggi poveriggio, se ci vai sopra, ecco lì, puoi cliccare lì e puoi vedere come funziona una macchina del genere, in reale insomma, non una cosa virtuale. Clicca clicca, spero che vada. Allora non ci vuole funzionare, pazienza probabilmente, era collegato in qualche modo a qualche file allegato, va bene, salutiamo e arrivederci a tutti.